Il primo brano che andiamo ad eseguire si intitola Offertorio. I Cieli narrano la gloria di Dio è l'inizio di un testo poetico di Christian Geller Fürtegött pubblicato nel 1757 nella collezione Odi e canzoni sacre. Questo testo è stato utilizzato da Ludwig van Beethoven per comporre un montetto per voce e pianforte del 1803. Con l'elaborazione per coro a quattro voci dispari e l'adattamento del testo in italiano di Guglielmo Ravelli questo è diventato uno dei più bei canti spirituali che descrivono le meraviglie del creato. Quindi, di Ludwig van Beethoven, nell'elaborazione di Guglielmo Ravelli iniziamo il concerto con il brano Offertorio. I Cieli canta la gloria di Dio. I Cieli canta la gloria di Dio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.